si fa l'esperimento una prima volta con un vecchio cane puoi raccontare l'episodio perché c'era una problematica su cui Ettore aveva dei dubbi? Allora l'esperimento che ha fatto sul ringiovanimento loro l'avevano iniziato un anno prima praticamente nel 2005 erano arrivati a sviluppare avevano provato con dei vegetali poi quando alla fine c'è stato il risultato hanno preso una rosa quindi siamo qualche mese indietro c'erano ancora le rose che noi diciamo spambanata che si era aperta tutta la corolla ma ancora viva perché stava a far seme irraggiata la colonna è tornata ad essere un bocciolo appena e quindi ritornava effettivamente indietro nel tempo c'è un problema che è la coscienza a quel punto parliamo sempre del corpo fisico facciamo il salto di specie e prendono a riferimento un cane del convento che ormai molto vecchio si parla di 17 18 anni quindi ormai proprio alla fine come tutti anche i cani hanno reumatismi non riescono a correre perdono le forze sbogliato dorme e lo irraggiano sul piazzale quindi stanno all'aperto il cane si mette se ritrova cucciolo di circa un anno e si mette a correre per il piazzale è imbazzito ad un altro mondo incontra degli ostacoli dei cerchi che stavano li buttati e comincia a saltarci sopra sviluppando praticamente un esercizio che gli era stato insegnato quindi aveva mantenuto la memoria Ettore Majorana dimostra veramente il piacere di vedere quello tanto che glielo fa ripetere per convincersi perché era la prova convincente che con il ritorno indietro del fisico fisica la parte vera dell'essere vivente che è nella memoria che è la sua storia non viene indaccata perché se il cane si è portato dietro a un anno quello che ha imparato tra i cinque e sei anni era chiaro che manteneva la memoria a quel punto lui è sicuro che se si sottopone a questo esperimento lui conserva tutto quello che lui ha acquisito quindi non c'è una regressione mentale diciamo così no c'è un riportare quella che è tutta la conoscenza tutto quello che è accumulato nella memoria di riportarlo in un corpo per fare un parallelo io ho una macchina vecchia butto via quella macchina ne compro una nuova ma sono sempre io è un parallelo che calza perfettamente perché noi non siamo il nostro corpo certo questo è quello che ci rende visibili che ci consente anche la comunicazione ma non siamo questo corpo in questa dimensione in questa dimensione in altre dimensioni e chi ha fatto l'esperienza di passare dall'altra parte lo sa benissimo